finalmente ho trovato il scisto e posso produrre petrolio cercando di non farmi uccidere dagli infetti se il video vi piace prendete in considerazione di iscrivervi al canale mettere mi piace e condividere il video a voi non costa nulla ma non immaginate quanto bene fa il mio canale a 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 Ah Grazie a tutti. 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 a tutti.